Marco Ippones Revisore Marco Ippones Revisore Marco Ippones Revisore Sono qui per raccontarvi la ricetta per essere persone di successo. E ve lo voglio raccontare con una storia. È la storia di un ragazzo che andava da scuola da 5 e mezzo, sei meno o meno, ma amava il mare e non la spiaggia, amava le auto e amava aiutare le persone. Ed è la storia del suo risveglio, è la storia di come fa a realizzare i propri sogni e aiuta le persone a realizzare i propri. A scuola gli dicevano potrebbe fare di più ma non si impegna. Sono sicuro che molti qui hanno avuto questa cosa da piccoli. Fa le superiori, poi arriva all'università e deve fare una scelta. Cosa fare da grande? Non era tanto motivato, non riusciva a capire cosa avrebbe fatto e quindi decide di cominciare a lavorare. Va in un'azienda di vendita porta a porta. Non era quella del spirapolveri, non era quella delle enciclopedie, ma insomma il lavoro era quello ed era anche bello impegnativo. Ed in questa azienda ha la fortuna o anzi vede l'opportunità di conoscere la crescita personale. Studia alcune cose che cominciano a piacergli e arrivano i primi risultati. Comincia ad andare veramente bene. Talmente bene che decide di mettersi in proprio. Fonda un'azienda ma non gli va tanto bene, defonda un'altra, non guadagna più niente e si ritrova quasi senza una lira. E a questo punto vi potete immaginare che si trova di fronte a un bivio. Il bivio è ok, abbiamo osato troppo, abbassiamo gli standard e cominciamo a fare una vita più normale oppure troviamo una soluzione. Decide per quest'ultima perché si rende conto che aveva studiato una cosa importante, che tutti i risultati che ottiene derivano dalle sue idee. Quindi lui attualmente vede un sacco di opportunità ma non le riesce a cavalcare. C'è da fare forse un aggiornamento software. C'è da fare un aggiornamento delle sue idee. Perché? Perché con nuove idee attraverso delle azioni e delle decisioni che prende può ottenere dei nuovi risultati. Quindi dice ok, devo lavorare sulle mie idee, vedo le opportunità, non le riesco a gestire, devo ancora fare un upgrade e investe gli ultimi soldi che ha nel fare formazione. La stessa persona che una volta non aveva nessuna voglia di studiare, adesso diventa quello che investe tutto nella formazione. E si rende conto di alcune cose che vedremo che gli serviranno poi successivamente. La prima cosa è che nell'universo materiale intorno a noi qualsiasi cosa che c'è prima era nella testa di qualcuno. Il TEDx di Lucca prima era nella testa delle organizzatrici. Qualsiasi mattonella di questa chiesa bellissima prima era nella testa di quell'artista. E quindi se vuoi creare un qualcosa nella tua vita, nell'universo materiale, lo devi prima creare nell'universo mentale. E quindi comincia a elaborare e ad organizzare quello che vuole che poi accada. Deve andare a elaborare per filo e per segno qual è il suo obiettivo. Alla fine ogni uomo, ogni persona ha dentro una parte divina ed è qui che viene fuori, perché possiamo rendere reali le cose che abbiamo nella testa. E quindi ora probabilmente vi state chiedendo, ma si può raggiungere qualsiasi obiettivo? La risposta è sì, ma su ogni obiettivo c'è un cartellino con il prezzo. E questo prezzo va pagato tutto prima. Ed è questa la particolarità. Perché sì, si può raggiungere qualsiasi cosa, ma a seconda di quello che ti poni come obiettivo, dovrai pagare un prezzo. E questo prezzo non è in euro, non è in valuta, ma è un prezzo emozionale. Di quanto sarà importante la tua enfasi con cui vorrai raggiungere questa cosa. L'universo ti metterà di fronte all'inizio a una prova, a una o più prove. E se le superi poi dopo si apriranno le strade per l'obiettivo. Quindi va tutto preparato prima. Bisogna prima focalizzare dove vogliamo andare, poi bisogna allenarsi, pagare questo prezzo emozionale e fare la scalata. È un po' appunto la metafora dello scalatore. Si deve preparare tutto prima, quindi la maggior parte dello sforzo sarà prima. Deve poi fare la scalata, che sarà impegnativa a seconda della vetta che c'è e quando arriva in cima può festeggiare. Ma è anche il bello, prendiamola così. Perché se uno prendesse uno scalatore e lo porta in cima alla montagna con un elicottero, probabilmente non sarebbe la stessa cosa. E quindi comincia a prefigurarsi quale sarebbe stato il suo futuro. E si trova di fronte ad un bivio. Il bivio è prendersi la responsabilità di quello che vuoi da grande, che vuoi fare e quindi andare nella parte difficile dove c'è la scalata alla montagna, oppure andare nella parte facile, quella dove c'è la maggior parte delle persone. Perché questa è la scelta fondamentale. Gli psicologi la chiamano locus of control. Cioè dov'è che pensi che sia il tuo controllo della vita? Se pensi che sia all'esterno, se pensi che sia fuori da te, allora l'unico sentimento che potrai generare purtroppo è la rabbia. Se pensi che invece tutto quello che generi intorno a te lo crei, allora puoi prenderti la responsabilità. E questa è la parte impegnativa, ma non te la puoi prendere con nessuno e ti devi solo rimboccare le maniche. E quindi sceglie di andare nella parte più difficile, di prendersi la responsabilità e di cominciare a mettere in campo tutte le azioni possibili e tutte le modifiche possibili per crearsi un obiettivo. Le persone sono molto molto brave in genere a sapere quello che non vogliono, piuttosto che a sapere quello che vogliono. Ma questo crea un problema. È come se voi foste davanti a un tassista che vi chiede dove vuoi andare e voi gli dite non voglio andare a Pisa, non voglio andare a Firenze, non voglio andare a Milano e lui sta fermo, non sa dove andare. Se invece gli date un'indicazione precisa vi porterà a destinazione. E questa cosa la dobbiamo fare anche con la nostra vita, con la nostra creazione dell'universo materiale che vogliamo intorno a noi. Non siamo troppo giovani, troppo vecchi, troppo belli, troppo fortunati o sfortunati. Dipende tutto da noi. E l'altra cosa che impara il nostro protagonista della storia è che ha la completa responsabilità e si può andare a scegliere il significato che dà a quello che gli sta succedendo. Per ogni risultato che noi otteniamo gli possiamo dare un significato. Se io faccio un incidente in automobile e non mi faccio male, sono fortunato o sono sfortunato? È questo che voglio dire. Il significato che gli diamo ci darà un'emozione. Questa emozione ci darà la capacità o no di decidere. E questa decisione sarà efficace oppure no e quindi ci potrà portare ad altre azioni. E questo genererà un risultato, un circolo che potrà essere potenziante o depotenziante. Anche questo è sotto il nostro controllo. Guardate quante cose che abbiamo sotto il nostro controllo e non ce ne rendiamo conto. Siamo veramente liberi di potersi scegliere il futuro che vogliamo. Altra cosa ancora, il SAR, il sistema di attivazione reticolare. Cos'è? È il nostro modo per semplificare il mondo. Noi come esseri umani siamo molto simili a un essere umano delle caverne e abbiamo bisogno di semplificare il mondo intorno a noi. Quindi che cosa succede? Che la nostra attenzione, la nostra parte cosciente ci farà vedere quello che pensiamo che c'è. Vi è mai successo, alzi la mano a chi è successo, di cercare le chiavi di casa e di non trovarle. Quasi tutti. E poi avete visto magari che erano lì, ve le hanno fatte notare. Quello era il SAR. Voi stavate pensando che non c'erano le chiavi e in realtà c'erano. E la stessa cosa accade con le opportunità, con le cose belle della vita o con le cose brutte. A seconda di quello che pensiamo che ci sia, noteremo questo. E anche questo è sotto il nostro controllo. Quindi, fatto questo cappello, possiamo andare a capire cosa gli servirà di questi concetti nel proseguo della storia. Perché poi le cose cominciano a funzionare meglio, il SAR viene attivato ancora di più sulla parte delle opportunità e a pranzo con un amico viene fuori un'opportunità importante. Quella di creare un'automobile da zero. E vi voglio raccontare come è passato questo ragazzo da questa immagine a presentare la propria auto al Motor Show. Ora, di queste non ne sono state vendute decine o centinaia, quindi probabilmente non ne vedrete mai una che vi attraversa la strada. Ma non è questo il punto. Il punto è come si fa a passare dall'universo mentale all'universo materiale. All'inizio, nella nostra storia, bisognava trovare soldi. E quindi attiviamo qualsiasi modo, qualsiasi canale per cercare degli investitori. Quindi vengono trovati alcuni investitori e si comincia con la produzione dell'auto. Sembra che vada tutto abbastanza bene. Si arriva alla fine della produzione del telaio e c'è la prima prova. Come abbiamo visto prima, l'universo vuole vedere se veramente vuoi raggiungere quella cosa. Ormai avete capito che questo ragazzo sono io e qui stavo ridendo, ma in realtà c'era poco da ridere, perché il telaio era tutto sbagliato e i soldi erano finiti. E qui c'è da scegliere ancora una volta. La scelta è, ok scusate abbiamo scherzato, ho osato troppo, torniamo alle cose normali. In realtà qui sceglie, come abbiamo visto prima, di continuare. Perché? Perché sa che ci vorrà questa prova. Deve superare la prima prova. E quindi che cosa può fare? L'idea è portiamo avanti l'automobile in modo che poi si riesca a vendere meglio questo concetto. E quindi si investe tutto quello che vuoi. Ci vuole tanta tanta energia. Quello che rovina i sogni delle persone è che ci provano una o due volte e poi c'è il dubbio, c'è la paura. È quello che blocca tutto. In questo caso per fortuna sono riuscito a gestire questa cosa e quindi vado avanti. Investo le ferie, investo tutto quello che avevo nel fare un lavoro che non avevo mai fatto. Quindi mi metto a scartavitrare l'automobile per cercare di dargli una forma che poi piano piano viene fuori e poi c'è un altro problema. Come si fa a fare un'automobile simmetrica a mano? È difficile. E quindi dobbiamo trovare una soluzione. E troviamo una soluzione con una fantastica stampante 3D analogica, che non esiste in realtà. Questo marchigegno serviva per misurare un lato e fare l'altro lato uguale. Da un lato veniva presa una misura e dall'altra parte veniva segnato se doveva scavare o se dovevi aggiungere del materiale. Si potrebbe parlarne un bel po', ma insomma, per farvi capire che le soluzioni ci sono se pensi che ci siano. E poi arriviamo a aver fatto il primo prototipo, la prima forma e riusciamo a far entrare altri investitori, anche aziende di tutti i settori, sempre automobilistico, che ci aiutano. Facciamo gli interni e qui sta andando tutto ancora bene. Ma c'è ancora un'altra prova da superare, perché arrivati a finire il cruscotto, finiscono ancora i soldi e qui siamo veramente messi male. Potete immaginare lo sconforto. Cavolo, sono tre anni che ci lavoro, ci ho investito veramente tutto, siamo arrivati a un centimetro e adesso? E qui dobbiamo crederci. Siccome sappiamo che l'universo è pieno di opportunità, non ce la raccontiamo e mandiamo una mail a tutta la rubrica dicendo, vuoi diventare mio socio in questa follia e portare l'auto al motor show? Mandiamo una mail a tutti e magicamente una persona molto importante risponde, viene finanziato il progetto e riusciamo ad arrivare al motor show. E dopo che si fa? Perché la felicità è arrivare e avvicinarsi al proprio obiettivo. E se l'obiettivo poi lo raggiungi, ce ne vuole un altro. E quindi bisogna creare ogni volta un nuovo step, una nuova meta. E' un po' come quando prendi la settimana enigmistica e devi unire puntini. Finché non li unisci non sai che disegno c'è. Avevo dei puntini nella mia vita, l'amore per le auto, l'amore per aiutare le persone, l'amore per il mare ma non per la spiaggia e quindi metto insieme le cose. Uso tutte le cose che ho imparato e usato per aiutare le persone a ottenere i propri risultati facendo da coach e ancora uno step successivo elaboro dei team building in barca a vela, unendo tutto, tutte le mie passioni. E vi posso dire che attualmente non lavoro praticamente più perché non è un lavoro ma per me è un piacere ogni volta, da ogni giorno svegliarmi. Detto questo vi voglio raccontare quali sono i passi per poter raggiungere i propri obiettivi. Il primo è sognare. La legge dell'attrazione funziona sempre. Se la usate per quello che non volete lo create. Se lo usate per quello che volete in realtà funziona molto meglio. Chiaramente ci vuole anche tanta tanta energia e non dobbiamo dubitare di quello che crediamo, di quello che cerchiamo, altrimenti non si va da nessuna parte. Il secondo punto è credere. Si dice prima voglio vedere per poi credere. Ecco qui è il contrario. Nella vita in realtà prima credi, 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 poi puoi vedere. E quindi ci vuole fede. È la parte divina dell'uomo anche qui. Terzo punto è perseverare. Più è alto l'obiettivo, più sarà duro il cammino e ci saranno tante prove durante il percorso. E tutte le volte devi continuare nella tua via, altrimenti torni indietro e torna tutto come prima. Il quarto punto è andare controcorrente. Se fai quello che fanno gli altri, ottieni quello che ottengono gli altri. Se vuoi qualcosa di diverso, devi fare qualcosa di diverso. Se ci sono le persone intorno a te che ti dicono che sei un pazzo perché stai facendo una cosa che è fuori dalla norma, bene, è un ottimo segnale, continua così. Quinto punto, prima dentro poi fuori. Se vuoi cambiare quello che c'è intorno a te, devi lavorare su di te. Devi lavorare all'interno, non è da fuori che si fa il cambiamento, si fa dentro e poi questo arriva fuori. Ultimo punto, bisogna smettere di raccontarsela. E questo è il punto più importante, l'ho lasciato in fondo apposta, perché c'è la raccontiamo sempre. Non si può fare questo, è troppo difficile, è troppo qui, è troppo là. Non è vero. Tutte le volte che vogliamo fare qualcosa lo possiamo fare. La scusa classica, non ho tempo, non è vera. L'unica cosa che è vera è che è finito il tempo di raccontarsela e delle scuse. Grazie.